Buonasera a tutti, ben trovati alle TG7 Basilicata. Questa edizione l'apriamo partendo dalla morte di un uomo di 49 anni, vittima di un incidente stradale che è avvenuto nei pressi della diga di San Giuliano, tramiglionico e Matera. L'uomo era alla guida di un auto articolato che dopo aver sfondato il guardrail è precipitato da un viadotto. Tra i comuni di Moliterno, Sarconi e Spinoso, i carabinieri di Vigiano hanno portato a compimento un'importante attività antidroga, nel corso della quale sono state arrestate in flagranza di reato tre persone di 39, 43 e 45 anni residenti nella provincia di Napoli, gravemente indiziate dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre sono stati sorpresi all'interno di un casolare di campagna ubicato in una zona impervia, mentre attendevano alle fasi di preparazione per l'essiccazione e imbustamento di un rilevante quantitativo di marijuana. I tre uomini sono stati dichiarati in stato di arresto e trasportati presso il carcere di Potenza e di Murphy. La dipendenza da alcol è caratterizzata da un comportamento di ricerca compulsiva di bevande alcoliche e da assofazione e tolleranza. Il club Kairos di Avigliano da anni ha aperto un centro di ascolto proprio per il contrasto a questo genere di dipendenza. Tutto ciò grazie al promotore del club Kairos Bonifacio Pistocchia, la preziosa collaborazione del comune di Avigliano e della giornalista Angela Maria Salvatore. Questa tematica sarà anche discussa a Filiano il 3 dicembre nel convegno Insieme Indipendenti. Siamo quasi in chiusura, vediamo il tempo per domani, condizioni di tempo stabile decisamente più soleggiato, le temperature in lieve aumento. Per questa sera è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.